Vieni, tanto loro sono su e sei l'unica che può tenere in compagnia, insomma, in un certo qual modo. Di un po' la gente tedesca, ma mi sta ascoltando oppure no? Alle deutsche, hört ihr denn überhaupt zu oder nicht? Das nächste Lied ist wieder von dem neuen Album Vivo und die heißt Morgen. Grazie per voi. Grazie per voi.